Seconda parte di TRG Mattino, sport in primo piano dalle pagine del Corriere dell'Umbria, il punto sugli stipendi della Serie B, così il grifo beffa le big. Meglio solo Cittadella e Pordenone, la Cremonese spende il doppio, la Cremonese peraltro prossimo avversario della formazione di Oddo, spende il doppio e 5 punti in meno, alto rendimento del club bianco-rosso. Dodicesimo per Montingaggi, ma quinto sul campo. Benevento, Paperone spendono male invece Empoli, Frosinone, Chievo e Salernitana. E poi per quanto riguarda gli ex bianco-rossi, riecco Galeone, questo Perugia è stranissimo, il profeta dice la sua sulla squadra di Oddo, qui in foto proprio assieme all'ex tecnico, Galeone assieme al tecnico attuale del Perugia Oddo, a tratti gioca bene, altri solo con portiere e centravanti. Questa è la disamina di Galeone. Intanto Jonber, Di Chiara e Balic tornano tra i titolari domani alle 15 sul campo della Cremonese, impegnati il grifo, l'ex forte intanto ribalti il Chievo, Juve e Stabia, Corsara 3 a 2 a Verona. Questo per quanto concerne dunque il Perugia calcio. E poi invece le parole da parte di Pippo Lanza, Sir ha il fattore P, l'extrenti inquadra il big match con la Leo Shoes Modena, sfruttiamo battute e ricezione, ovviamente parliamo di volley di Superlega, il martello avvisa Modena, Balabarton decisivo, puntiamo a vincere al quinto. Questo si legge con le parole dunque di Pippo Lanza. Il concetto è chiaro, non c'è una favorita, saranno importanti i dettagli, dichiara lo schiacciatore qui in foto. Ancora tornando al calcio, Serecci, Fere a Cava per rilanciarsi. La Ternana di nuovo in campo dopo il cappò a Liberati in campionato e i blitz di Coppa Italia. Il tecnico gallo, la squadra continua a crescere, i bilanci preferisco lasciarli agli altri. Si gioca stasera all'ora 21 al Menti di Castellamare di Stabia. Paghera recupera in extremis, convocato nel 4-3-1-2, c'è soltanto un ballottaggio in avanti. Dovrebbero rivedersi Ferrante e Marilungo con Partipilo sulla tre quarti. Serecci sempre, Gubbio nuovo per la Fermana. Torrente vuole irrobustire l'attacco contro la difesa in difficoltà dei marchigiani. Ieri il tecnico di Cetara ha varato un 4-2-3-1 alternativo al consueto 3-5-2 per la gara da dentro fuori, che i rosso-blu non possono sbagliare. Serve la cattiveria giusta. Stasera le parole di Torrente nel TG Sport delle 20 e 40 su TRG. Mentre domani, la diretta radio dalle ore 15, perché si gioca alle 15.15, su RG Amitredio di Gubbio Fermana, con a seguire le interviste post partita. Lunedì sera ovviamente torna il salotto sportivo di fuorigioco alle 21 su TRG. Mercato di Lettanti, Cannara e Comoracci, Via Curti, Cambio dunque in difesa, la Ducato intanto in pole per Dario Colombi. E poi, oggi alle 14.45, l'anticipo in promozione di Rone B tra Amerina e Monte Castello. Vibio, ancora, parlando sempre di anticipi, oggi Big Match in eccellenza. Un croce via al Bernicchi alle 14.45, l'anticipo Tiferno Narnese, prima contro seconda, divise da un solo punto, peraltro titolo d'inverno in palio. Biancorossi senza Morvidoni, ma debutta a Valori in attacco, appena preso dal Sansepolcro. Sabatini ha tre dubbi di formazione, dunque in campo come visto alle 14.45. Sereddi invece, il Foligno aspetti il Montevarchi. Ricordate la sfida del 2005-2006? Si legge sul Corriere, qui in foto, il tecnico Arminley Foligno, che vuole dare continuità all'ultima vittoria ottenuta sul campo dell'Aglianese. E poi, gli Oscar dell'Aia di Foligno. Premiati i migliori fischietti durante il gala della sezione arbitri. Le parole anche della Presidente Finzi, Valentina Finzi, che squadra ha dichiarato. C'era anche il Presidente nazionale, Nicchi. Sempre più spazio alle donne, complimenti. Alcune premiate della serata, tra cui anche l'assistente internazionale Trasciatti, qui in foto. Qui proprio Valentina Finzi, assieme a Luca Ciancaleoni, Presidente dell'AIA regionale, della Craumbria, scusate, e Marcello Nicchi, per quanto riguarda gli arbitri e il settore Folignate a Sai Florido. Basket C-Gold e Silver, Lucky Wind, Abasto, Perugia, Match Club con Samba Canestro. Si gioca oggi, Volley B e C, invece, la nona regala due derby, San Giustino, Monteluce e Castello Trevi. Per quanto riguarda anche il punto su basket e pallavolo, ancora poi motori con spettacolo al Galaci 2019. L'Automobile Club fa festa, abbiamo trattato anche con un servizio nei giorni scorsi. Patron Campi ha consegnato premi a sportivi, imprenditori, giornalisti e professionisti vari per una serata dedicata ai personaggi dell'automotive e del motorsport. Tanta gente all'Hotel Prufani, presentato pure il calendario 2020, che celebra il marchio Maserati. Ancora il torneo Saioni, che torna a Perugia il 28 e il 29 al Palafoccià, per quanto riguarda gli under 15. E poi la PF Umberti, che stasera sfida Livorno, per quanto riguarda la serie A2 femminile. Dunque, questo è il punto sul Corriere. Passiamo allora alle notizie sportive, invece, sulla Nazione. Ricordando ancora, ovviamente, stasera l'appuntamento con il TRG Sport, dove presenteremo tutta la giornata calcistica e, ovviamente, non e non, per quanto riguarda la domenica sportiva, domani, ricorda ancora, la diretta radio su RGM It Radio. Passando, invece, alle pagine sportive della Nazione, anche qui il punto sul Perugia. Quattro sfide per scoprire il volto. Cremonese, Entella, Trapani e Venezia sono sotto in classifica. I grifoni di Oddo, chiamate lo sprint di fine anno. John Berre disponibile, Ballottaggi, invece, in attacco. Montingaggi, Crifo tredicesimo, Cremona piange, ride. Il Cittadella, Serie C, ancora, Ternana, l'esame Cavese, Gallo, non molleremo mai. Stasera alle 21 le fere cercano il bottino pieno. Sul neutro di Castellamari, il tecnico, le vittorie fanno bene. Ho visto il giusto approccio e tanta grinta. Gubbio, invece, serve il riscatto in casa con la Fermani. I Rossoblu devono far dimenticare la sconfitta con la San Benedettese. Si gioca domani alle 15 e 15, come già detto in foto il centocampista Lacti. Foligno, Montevarchi, ora tutti allo stadio. I tifosi invitano la città a sostenere i bianco-azzurri, congelata la trattativa per l'attaccante Massimo Goh, per quanto riguarda la Serie D. E poi ancora Volley, Sir Perugia, la carica di Pippo Lanza, domani in palio punti preziosi. I Block Davids attendono Modena al Palabarto, nello schiacciatore, dobbiamo sfruttare il fattore campo. Bartoccini, invece, alla seconda vittoria. Coach Bovari ci ha premiato il punteggio, ma non il gioco. La capolista Conegliano va a K.O., ma non è stata una delle nostre migliori partite. Dicari il coach della Bartoccini, che domani sarà impegnata a Novara. A Cannara c'è Moracci, Bertini intanto all'Orvietana, per quanto riguarda il calcio mercato di Lettanti. A Merina, Monte Castello Vibio, oggi in anticipo. San Giustino con Monteluce, il programma delle gare. Cigolda, Sisi trasferta a Pesaro, a Perugia sfida Salvezzo. Umberti, dia 2 femminile di basket, cerca punti nella Tana del Livorno. Per quanto riguarda anche le notizie in breve. Chiudiamo con le pagine sportive del messaggero Grifo. Cerca si svolta esterna, scrive il messaggero. Tre cappone, le ultime 5 gare in trasferta. Ora il cambio di passo. A Chemona c'è da superare il Tabuzzini. Manca ancora la vittoria. È un Perugia di carattere, già ribaltate nuove situazioni di svantaggio. Iembello vuole superare se stesso, ma è a segno. Per tre volte di fila il bomber della formazione bianco-rossa. Giomber e Melchiorri intanto sono recuperati. E poi le ragazze della Bartoccini possono sorridere. Battute le migliori al mondo. Ora cercano conferma, come visto, domani contro Novara. Ancora Ternana, Fere non molliamo. La reazione di Gallo dopo la delusione contro la Casertani. I Rossoverdi cercano i riscatti in trasferti. Il tecnico crede ancora nel primo posto. So bene quanto questo gruppo sia cresciuto. Stasera, come detto, si gioca sul campo della Cavese. Difesa che balla Cavese verso il Baratro, si legge, per quanto riguarda gli avversari. Serie D, Foligno, Petterini, chiami tifosi. La bandiera dei falchetti in vista del match col Montevarchi. Per l'ultima dell'anno in casa sarebbe bello vedere. Tanti allo stadio. Il bilancio, per me, stiamo disputando un campionato in linea con le attese. Fino ad ora nessuno ci ha messo sotto le parole proprio di Filippo Petterini. Cannara col Monterosi, capolista. Bastia ospita il Flaminia. Trestina invece che sfidia il Pomezze. Poi eccellenza. Lo Spoleto attende altri rinforzi al più presto. C'è il Ponte Valleceppi. Domani obbligatorio vincere. Oggi intanto il big match Tiferno Narnese per mezzo posto in Paradiso. Questo dunque per quanto concerne anche le pagine sportive sul Messaggero. Chiudiamo proprio con il meteo per quanto riguarda per l'appunto questo fine settimana. Oggi giornata direi soleggiata come si può vedere anche dalla schermata in gran parte della regione che vedrà per l'appunto poi intensificarsi le nubi nella giornata di domani per quanto riguarda appunto una situazione che però non dovrebbe avere temporali ma solo delle nubi nella giornata di domani soprattutto nelle zone 107 tonari della regione per quanto riguarda il meteo Umbro. E tutto per quanto riguarda questo appuntamento con TRG Mattina. Vi ricordo stasera il TRG Sport alle 20.40-20.45 circa. Domani la diretta radio su RGM di Gubbio Fermana dalle ore 15 a seguire le interviste post partita e lunedì sera alle 21. L'appuntamento con il salotto sportivo di fuorigioco fu TRG mentre la segna stampa di TRG Mattina torna lunedì sempre dalle 7.30. Buon fine settimana a tutti voi.